Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni. Anna Imbriani ha intenzione di accettare la proposta di Vittorio, ovvero di lasciare il suo lavoro al circolo e di iniziare a lavorare per il Paradiso delle Signore, questa volta però non nel ruolo di commessa, ma di aiutante di Beatrice. Fortunatamente, tra la mamma di Pietro e la Imbriani si instaura subito un bel rapporto. Riguardo ad Adelaide, cercherà di rimediare i suoi errori. Non vuole perdere l'affetto e la stima di Ludovica, soprattutto ora che i suoi nipoti sono lontani. Per questa ragione, quando Parri sarà costretto a lasciare il lavoro a causa di problemi personali, la Contessa proporrà a Marcello di sostituire Parri. Ovviamente, il figlio di Giuseppe sarà contento dopo aver appreso che Anna lavorerà al Paradiso delle Signore. Adesso ha più occasioni di vederla e quindi anche di conquistare il suo cuore. Grazie. Grazie.